Farina, uova, zucchero, burro, alchermes, scorsa di arancia e di limone. La ricetta della ciaramicola, uno dei dolci tipici della tradizione perugina, è stata depositata ufficialmente alla Camera di Commercio dell'Umbria. L'iniziativa si deve all'Accademia Italiana della Cucina, che ha codificato la composizione dello storico dolce legato alla celebrazione della Pasqua a Perugia. L'atto è stato formalizzato dal notaio Matilde Patrizia Leotta e consegnato alla presenza di Roberto Ariani, segretario generale dell'Accademia, a Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell'Umbria. L'Accademia Italiana della Cucina, fondata a Milano nel 1953 e riconosciuta come istituzione culturale della Repubblica, si impegna attivamente nella salvaguardia e nel miglioramento della tradizione gastronomica italiana. A questo proposito Massimo Moscatelli, delegato di Perugia dell'Accademia, ha evidenziato che quella per la ciaramicola riflette simili iniziative promosse in altre regioni d'Italia, come il deposito della ricetta del ragù presso la Camera di Commercio di Bologna nel 1972. Da parte sua, Mencaroni ha sottolineato l'importanza storica di questo evento per la Camera di Commercio dell'Umbria, confermando l'impegno costante nel valorizzare i prodotti tipici regionali. La codificazione della ricetta della ciaramicola è il risultato di approfonditi studi sulle sue origini storiche condotti dall'esperta Marilena Moretti Badolato. Il nome ciaramicola, secondo le ricerche, deriva dal greco keramos, che significa ceramica, facendo riferimento alla glassa bianca e ai colori vivaci del dolce. La certificazione non implica alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale, ma assume un significato culturale importante, con l'obiettivo che la ricetta storica della ciaramicola diventi una risorsa per la comunità e per gli operatori del settore.